fino ad ora le attività software sono state tutto sommato abbastanza semplici perché abbiamo preso degli esempi e abbiamo variato il codice in maniera puntuale per fare quello che volevamo torniamo alla pinout view, ogni pin è assegnato con il nome del segnale possiamo ovviamente cambiarli, però questa disposizione di pin è quella della nostra scheda discovery per cui compilando questo progetto l'hardware sarà proprio quello indicato qui tolgo il tasto dal reset, ecco qua, questo è il fascio di curve BJT emulato a software quindi partono dall'estremo basso e poi salgono questo video è sponsorizzato da JLC PCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni ciao a tutti e benvenuti in laboratorio, come sempre prima di iniziare un saluto a due nuovi sostenitori del programma Patreon ciao e grazie a Fabrizio Rin e Paolo Sim, grazie per il vostro contributo apprezzatissimo nel video 829 abbiamo visto il traccia curve di nuova elettronica LX750 bello schema realizzato con un po' di logica CMOS per pilotare dei componenti e visualizzare le loro curve tensione corrente utilizzando un oscilloscopio esterno tipicamente analogico oggi vogliamo rifare questo traccia curve utilizzando la tecnologia del 2023 ecco perché ho tutta una serie di schede della ST che valuteremo per trovare una soluzione che possa essere simpatica per la gestione di un display quindi in prima battuta vedremo come si programmano le schede di valutazione della ST quindi le discovery utilizzando l'ambiente Cube MX che è un ambiente di programmazione di ST in passato nel video 673 avevo già utilizzato una scheda di queste per fare un piccolo oscilloscopio fai da te ma utilizzai all'epoca MBED, un ambiente online questa volta invece utilizzeremo Cube MX che è molto più complesso dunque con questo video vi mostrerò come mettere in pista velocemente del software su queste schede che non è una cosa così semplice perché spesso la scelta delle librerie e la configurazione dell'ambiente fanno perdere tante tante ore sarà una puntata prettamente di sviluppo software e in seconda battuta potremmo utilizzare un modulo magari più semplice come un Arduino utilizzando il PC come visualizzatore delle curve ma oggi concentriamo la nostra attenzione proprio su queste schede della ST per vedere come utilizzare al meglio le loro periferiche e quindi buona visione l'ecosistema ST è molto vasto offre una serie molto ampie di schede di valutazione e starter kit quindi delle schede che alloggiano dei sensori e permettono in poco tempo di prendere confidenza con questi oggetti per arrivare poi alla selezione dei componenti desiderati per la propria applicazione queste sono schede un po' più datate, le Discovery le più recenti sono le schede Nucleo che alloggiano sempre microprocessori della famiglia STM32 ognuna di queste viene accompagnata da librerie e software che permettono lo sviluppo di codice in maniera molto veloce per ogni tecnologia abbiamo la scheda giusta ad esempio questo è il kit per la tecnologia Lora controllo motore, gestione display e diversi sensori quali accelerometri, giroscopi eccetera le schede ospitano già l'ST-Link V2 che permette la programmazione direttamente dal PC collegando semplicemente un cavetto USB una volta selezionato il microcontrollore invece su una scheda embedded sarà necessario il dispositivo proprio di programmazione ST-Link V2 questa sera ci concentreremo sulla famiglia STM32F4 questa scheda Discovery è abbastanza adattata avrà almeno 10 anni di fatti è un'applicazione che avevo fatto a suo tempo per far comunicare questa scheda con un PC utilizzando la UART e un convertitore UART USB basato sul chip FTDI la scheda mandava dati seriali al PC o anche a un tablet per visualizzare segnali acquisiti dal ADC a bordo eventualmente la riprenderemo in un secondo momento perché questa sera vorrei invece utilizzare la Discovery sempre STM32F4 però con questo display a bordo che è un touchscreen da 2,4 pollici che ci potrà essere molto comodo per realizzare un traccia curve abbiamo addirittura fin troppe risorse perché qui a bordo abbiamo DAC, ADC, dispositivi ad alta velocità e una capacità di elaborazione molto spinta ma quello che interessa a noi è il display LCD proprio per visualizzare le curve la scheda ha due bottoni uno di reset e uno user button utilissimo e diversi led che possono essere pilotati dal software proprio per gli scopi dell'applicazione nel nostro caso utilizzeremo il led per vedere il battito cardiaco essere sicuri cioè che la nostra applicazione stia funzionando correttamente perché spesso in questi sviluppi può succedere che se il codice accede a delle risorse non consentite si può proprio bloccare la scheda quindi ora passo in modalità PC così collegheremo direttamente questa scheda tramite cavetto USB al PC e utilizzeremo l'ambiente Cube MX la prima cosa che dobbiamo fare è avere un PC pulito nel senso che abbia abbastanza spazio disco abbastanza memoria in questo caso io ho fatto una macchina nuova Windows 11 scarichiamo l'ambiente Cube MX quindi da Google semplicemente Cube MX andiamo in ricerca ci appare il portale ST dove troviamo tutte le informazioni e anche i link per il download piattaforma Windows nel mio caso viene chiesto il login basta registrarsi è tutto gratuito si scarica l'eseguibile e si installa la seconda cosa da fare è scaricare tutto il materiale per la nostra board che è la STM32F429 Discovery andando a cercare sempre su Google arriviamo subito sul link sempre su ST dove ci sono tutti gli elementi che ci servono in particolare andiamo sul tab Tools and Software e scarichiamo la libreria che contiene tutti gli oggetti quindi gli HAL quindi l'Hardware Abstraction Layer le API e tutti i driver cliccando sul package come sempre abbiamo la descrizione e possiamo scaricare il software il package che viene estratto dal file zip è questo STM32CubeFWF4 quindi per le schede con Cortex modello famiglia F4 versione 1.270 la cartella che ci interessa in particolare è quella dei drivers e in particolare questa BSP che contiene tutte le API quindi tutte le funzioni che ci permettono di interfacciare direttamente l'hardware della scheda senza dover scrivere del codice di basso livello in particolare la nostra scheda è questa STM32F429i Discovery al cui interno ci sono tutti i sorgenti riconosciamo i punto C e i punto H dei diversi dispositivi come l'LCD, il giroscopio, l'SDRAM e così via lanciamo il Cube MX e creiamo un primo progetto di esempio quindi File New STM32Project viene lanciata l'engine che ricerca tutti i dispositivi supportati questa è la lista dei microcontrollori microprocessori che dovremmo selezionare se avessimo una scheda semplice con solo il micro a noi però interessa utilizzare degli esempi già fatti della scheda e quindi andremo su Example Selector e sceglieremo una stringa che ci conviene sia abbastanza completa con tutta una serie di chiamate che è BSP quindi questo esempio contiene l'utilizzo dell'LCD e di altri dispositivi sceglieremo fra la lista che è presentata la nostra scheda che è appunto l'STM32F429Disk quindi Discovery Kit lo riconosciamo poi dall'immagine vedete che c'è il display touch con tutte le caratteristiche torniamo su Esempi e con questa riga selezionata facciamo Next compare questa maschera semplicemente Next ci conferma la versione del firmware che abbiamo selezionato prima la 1.27 Finish quindi ora viene creato all'interno di Cube MX un progetto chiamato BSP e poi avremo fra parentesi il nome della scheda eccolo qui pronto da essere utilizzato è stato creato il progetto BSP in STM32F429Discovery con tutte le cartelle quindi negli includes tutte le librerie necessarie dei driver per il funzionamento nella cartella example ci sono i sorgenti andiamo a curiosare cartella user main.c è il appunto main.c quindi dove risiede il programma principale vediamo che viene utilizzata una demo questi BSP examples è un array di diverse demo che vengono lanciate quindi per farlo funzionare andiamo sulla cartella del progetto e facciamo un build project quindi viene in pratica compilato il compilatore sta girando lo vediamo sotto sta quindi creando tutti i file oggetto che poi verranno linkati zero errori zero warning siamo pronti per lanciarlo in esecuzione e quindi ora dobbiamo collegare la scheda la scheda deve essere collegata con la porta USB da questo lato perché qui abbiamo l'StLink V2 che è la nostra interfaccia di programmazione verso il micro per mandare in esecuzione il programma sul progetto BSP tasto destro run as stm32c c++ application qua confermiamo ci sono tutte le impostazioni per il debugger eccetera ma noi facciamo ok in questo modo viene collegato l'StLink e si stabilisce la connessione per scaricare l'eseguibile all'interno della flash del nostro micro quindi download verified successfully shutting down exit quindi adesso l'applicazione è stata scaricata nella nostra scheda ecco la demo è in esecuzione ci sono i due led user che stanno lampeggiando e il display presenta il logo DST press the user button to start the touch screen example quindi lo user è questo bottone qui spingiamo ci chiede di calibrare quindi dobbiamo cliccare su questi pallini e poi come sempre c'è una verifica della sensibilità e precisione del touch quindi in questo caso ci chiede di appunto spingere su questi cerchietti per la calibrazione andiamo avanti ci sono le demo sui font quindi le dimensioni i tipi di caratteri i tipi di geometrie le immagini ovviamente si possono caricare delle bitmap e quindi questo piccolo esempio ci fa vedere appunto come gestire il TFT ora vogliamo creare un nostro programma quindi andiamo sul file main quello principale e andremo a inserire pezzi di codice per fare le prime prove del traccia curve dopo una serie di dichiarazioni iniziali vedete qua siamo sulla main abbiamo un hull init quindi vengono inizializzati tutti i driver vengono inizializzati i led il system clock viene lanciato quindi queste inizializzazioni le lasciamo entriamo nel ciclo while quindi while1 significa che è un ciclo infinito che ripete sempre questo codice quindi dobbiamo entrare qui dentro andiamo a cancellare quello che è presente qui dentro per inserire il nostro codice la prima cosa di cui ho bisogno è uno schermo nero con la griglia quindi creo questa funzione schermo che non ritorna niente quindi void e vado a utilizzare le primitive bsp lcd clear quindi azzera il display con colore black nero poi imposto il colore a bianco e faccio due cicli for per creare tanti quadratini con le dimensioni giuste qua ho fatto dei quadratini della misura di 40 pixel tenete presente che siamo a 320x240 come dimensione utilizzo poi la funzione bsp lcd draw rect quindi crea un rettangolo partendo da questo punto con le dimensioni appunto di 40 e infine imposto il colore a rosso quindi andiamo nel file main subito dopo le prime dichiarazioni di variabili eliminiamo la parte della demo che non ci interessa più e incolliamo la nostra funzione schermo vedete che vengono riconosciute le primitive bsp infatti sono colorate rimuovo anche questa funzione display demo description che non ci serve bisogna stare attenti a rimuovere passo passo solo le cose che servono e inserisco in cima al file nelle define due variabili xmax e ymax che sono le dimensioni appunto del display utilizzate dalla funzione schermo ricordiamoci di eliminare anche la dichiarazione della funzione display demo description e soprattutto la chiamata qui poco prima del while visto che l'abbiamo cancellata altrimenti genererebbe errore facciamo un build project per vedere se non abbiamo commesso degli errori no possiamo mandarlo in esecuzione quindi come sempre run as e viene scaricato l'eseguibile all'interno della scheda ecco la nostra griglietta ovviamente abbiamo questa frequenza di rinfresco perché ho messo la griglia all'interno del ciclo while quindi adesso la possiamo spostare fuori in modo che venga disegnata solo una volta quindi la togliamo da qui dentro e la portiamo poco prima del while disegno una volta sola ecco vedete adesso è un disegno statico disegno una prima curva come ad esempio una sinusoide nel tempo definisco l'ampiezza A pari a il valore massimo dello schermo ymax diviso 10 e poi utilizzo il colore giallo per tracciare la curva ho un ciclo for che mi fa variare la variabile indipendente quindi la x dal valore 0 a xmax escluso e calcolo il valore di y come A per il seno di 2 pi greco diviso il periodo per x e quindi avremo questa relazione poi utilizzo la bsp lcd fill circle per disegnare un cerchio che abbia centro in o x o y secondo le coordinate di diametro 2 pixel imposto un ritardo di 5 millisecondi per avere un effetto di disegno della sinusoide in realtà poi vedremo che è più lento quindi mandiamo in esecuzione il codice e vediamo cosa salta fuori tengo premuto il bottone di reset lo mollo schermo ecco la sinusoide è stata disegnata però perché x e y per questo display sono ruotati di 90 gradi infatti questo asse che sarebbe il 320 pixel è nella definizione che abbiamo dato y e questo è x quindi se vogliamo utilizzare invece il display in modo che la scissa x sia quella sul lato lungo dobbiamo effettuare una rotazione di 90 gradi creo la funzione sinusoide x y che deve ruotare la curva di 90 gradi e quindi i ruoli di x e y si devono invertire abbiamo per cui che il ciclo for sarà fatto sulla variabile y questa volta da 0 a y max e la variabile x sarà il seno di y inoltre dobbiamo aggiustare i parametri o x e o y che sono gli offset sia verticale che orizzontale per far sì che la sinusoide rimanga centrata all'interno dello schermo mollo il pulsante di reset ok prima di creare un traccia curve voglio vedere se la resa grafica di un fascio di curve è efficiente sul display quindi creiamo questa emulazione software di curve di un transistor bjt l'idea è quella di avere appunto un fascio di curve come si avrebbe col dispositivo vero quindi creo questa funzione curve bjt grafica dove questa volta la dipendenza fra le variabili x e y sempre col meccanismo dell'inversione perché vogliamo sfruttare il lato lungo per le ascisse è di tipo logaritmico la curva logaritmica assomiglia un pochino a quella di un bjt non è proprio vero in molti tratti però insomma dà l'idea quindi definisco nel ciclo di y che varia da 0 a y max la variabile x come 40 per il logaritmo 10 di base y il coefficiente 40 lo ho selezionato per renderle graficamente centrate rispetto al display poi disegno 5 curve quindi proprio per avere un fascio dove questa curva logaritmica in x viene semplicemente traslata quindi aggiungo degli offset ad esempio nella prima è proprio la curva x nella seconda aggiungo 135 55 80 35 quindi si avrà proprio l'effetto di questo fascio di curve mandiamoli in esecuzione tolgo il tasto dal reset ecco qua questo è il fascio di curve bjt emulato a software quindi partono dall'estremo basso e poi salgono il display in dotazione è abbastanza potente ho caricato qui un altro esempio che fa vedere la visualizzazione di immagini bitmap ad esempio caricati sui due layer infatti il display ha la possibilità di gestire due finestre contemporaneamente questo esempio si chiama ldtc display due layer e carica i loghi di st come due immagini e le fa muovere una sopra l'altra mandiamole in esecuzione la resa grafica è notevole si vedono queste due immagini gestite in maniera completamente indipendente l'una dall'altra sui due layer del display bene ora che abbiamo visto come funziona il display vediamo un po' il traccia curve a livello di sistema come dovrebbe essere composto in rosso qui ho indicato le funzionalità della nostra stm32 quindi abbiamo una cpu che dovrà pilotare un DAC su due canali quindi dovrà mandare delle parole in digitale e i DAC trasformeranno queste parole in segnali analogici canale 0 canale 1 i segnali dovranno essere fatti così la corrente di base dovrà essere una forma d'onda a gradini per avere un certo livello di corrente di base sul dispositivo sotto test e nello stesso momento l'altro canale il canale 1 deve variare la rampa in maniera lineare sulla parte di corrente di collettore in questa maniera avremo che per ogni gradino catturiamo un pezzo di curva infatti quando la IC varia dal valore minimo al valore massimo saremo in grado di catturare la curva del transistor avremo poi i terminali di B e C dove si inserisce il componente sotto test una parte di amplificazione proprio perché i segnali generati dal DAC avranno un livello basso e qua invece abbiamo bisogno di corrente una parte legata all'attenuazione con delle resistenze per leggere i valori di tensioni correnti secondo la scala selezionata e poi un ADC con due canali quindi una conversione analogico-digitale che ci riporterà i segnali analogici su parole a bit che arriveranno sempre alla CPU la CPU poi trasmetterà questi dati in grafico o verso una porta seriale quindi un UAR che verrà collegata esternamente con il PC per poter utilizzare la grafica del PC per visualizzare le curve oppure piloterà direttamente un display come abbiamo visto fino adesso inoltre dovrà anche essere interfacciata con un pulsante utente e dei led per le indicazioni fino ad ora le attività software sono state tutto sommato abbastanza semplici perché abbiamo preso degli esempi e abbiamo variato il codice in maniera puntuale per fare quello che volevamo adesso però dobbiamo integrare tutte le periferiche che ci servono all'interno di un progetto e questo diventa un po' complicato un approccio potrebbe essere quello di prendere i diversi esempi quindi LCD UART DAC ADC e combinarli in un programma che li gestisca insieme questo approccio però è sconsigliabile perché ognuno degli esempi che viene fornito con la Discovery fa riferimento a librerie che possono essere di diverso tipo e in relazione fra di loro in modo diverso col risultato e vi assicuro ho provato per un bel po' di tempo che la generazione di un codice del genere risulta essere molto complicata allora seguiremo un approccio invece standard che utilizza proprio il Cube MX come configuratore hardware quindi faremo un nuovo progetto STM32 dove andremo a instanziare tutte le periferiche di cui abbiamo bisogno però cercheremo di riutilizzare la BSP quindi tutte le API le funzioni che abbiamo visto di livello un po' più elevato in modo che DAC ADC display saranno gestite con delle funzioni di alto livello altrimenti ci toccherebbe di riscrivere tutto a basso livello cosa abbastanza pesante da Cube MX facciamo file new stm32project questa volta andiamo sul board selector e mettiamo il part number della nostra scheda stm32 f429 eccola disc 1 l'ha trovata questa è la nostra scheda facciamo next nome al progetto mettiamo traccia curve e qua verranno caricate tutte le periferiche che sono presenti nella nostra scheda next solita versione di firmware ok ci chiede se vogliamo inizializzare tutte le periferiche a default va bene questa volta viene chiamato un'interfaccia grafica che è il configuratore hardware del Cube MX è questo è una mappa dove viene mostrato il microcontrollore per il quale tutti i pin possono essere modificati ad hardware qua ci avvisa su un'eventuale postazione per il codice rientrante va bene e ecco vedete che è in costruzione la pagina del nostro micro è l'STM32F429ZIT che è un LQFP da 144 pin questo è un processo che impiega un pochino di tempo ma è comodo perché in automatico tutte le periferiche vengono istanziate ok ha finito e noi le possiamo utilizzare possiamo avere una vista sistema dove vengono indicate per le diverse categorie le periferiche che sono state caricate nel middleware abbiamo FreeRTOS e avremo uno scheduler che ci permette di mandare in esecuzione i nostri task con delle priorità dei tempi dei ritardi comodissimo un USB host questo molto comodo OTG poi sulla parte di hardware abbiamo sul system core il DMA i GPIO RCC sistema eccetera quello che interessa a noi è la parte di display che è sotto multimedia ed è questo LTDC altre periferiche caricate l'USART l'SPI l'FMC per la gestione della memoria il modulo per il calcolo del CRC torniamo alla pinoutview ogni pin è assegnato con il nome del segnale possiamo ovviamente cambiarli però questa disposizione di pin è quella della nostra scheda discovery per cui compilando questo progetto l'hardware sarà proprio quello indicato qui bisogna stare molto attenti però a una cosa ad esempio il display che si trova sotto multimedia questo ldc ha una configurazione che possiamo vedere con dei parametri che non è detto che siano quelli che ci vanno bene allora vedete qui ci sono la sincronizzazione in larghezza in altezza quindi abbiamo 10 pixel e un 240x320 e questo va bene abbiamo il livello dei segnali sulla parte dei layer vedete che è indicato un layer quindi la configurazione di default per il display fatta da cube mx è con un layer questo ovviamente lo possiamo cambiare e mettere due però adesso cominciamo con la gestione di un solo layer dunque se andiamo a compilare il nostro progetto con un build project avremo un progetto compilato e direi anche funzionante visto che l'ha fatto il tool con il codice generato in automatico dal configuratore hardware e adesso andiamo a curiosare se apriamo la cartella corra del nostro traccia curve src sono i sorgenti il main.c è il file principale che andiamo a vedere come è organizzato quindi c'è una chiamata a degli leader quindi gli usb host cms sys tutte le periferiche che abbiamo visto prima vedete sono e quello che ci interessa è questo ltdc tutte le chiamate all'inizializzazione di queste periferiche sono delle funzioni di tipo init codice main come sempre inizializzazione dello strato hardware inizializzazione di tutti i dispositivi e poi si lancia lo scheduler ciclo while uguale a 1 la tentazione sarebbe quella di scrivere del codice qui dentro il while ma questo non funzionerebbe perché ricordiamoci che c'è uno scheduler quindi l'rtos è un oggetto che lancia un task all'avvio e quindi il codice che vogliamo eseguire deve essere all'interno di questo task ovviamente all'interno del cube mx c'è una sezione dedicata alla gestione del clock e viene portato il sinottico con la generazione del clock in tutti i suoi vari stadi e ci sono dei parametri che possono essere variati ovviamente quindi la scheda attualmente lavora a 180 megahertz però possiamo rendere disponibili su dei pin e anche con certe configurazioni segnali che derivano appunto direttamente dal clock per lanciare il primo programma quello che ci interessa è sapere come si chiama il task che lancia l'rtos quindi andiamo sulla vista dell'rtos e vediamo questo si chiama default task questo task name è la funzione che viene chiamata con questa priorità e questi parametri dunque nel nostro codice sorgente nella main andremo a cercare questa funzione start default task questa qui eccola dove è contenuto il codice di questo task in esecuzione che viene vedete qua poi c'è un os delay con un con un tempo quindi se inseriamo all'interno di questa funzione il nostro codice sappiamo che verrà lanciato cosa che come dicevamo non sarebbe vera se ci mettessimo nel ciclo while di prima per utilizzare le diverse periferiche ovviamente facciamo riferimento allo user manual di questa scheda dove sono indicate tutte le risorse software in particolare possiamo iniziare con un piccolo codice che accende semplicemente due led per vedere se tutto funziona a pagina 18 sono indicati i led e abbiamo un ld3 che è il led verde che è collegato alla porta pg pin 13 il led ld4 è un led rosso collegato sempre alla porta pg led 14 questo lo possiamo verificare anche sul configuratore hardware l'ioc andando sui pin della porta pg 13 e 14 vedete che abbiamo i segnali ld3 ld4 led verde e led rosso per accenderli quindi creiamo una funzione toggle led 34 che semplicemente li farà lampeggiare utilizzando la primitiva hal gpio write pin che è quella che accede direttamente all'hardware indicando la porta g il led 3 o il led 4 quindi vedete con questo simbolo li comandiamo insieme in uno stato di reset quindi segnale basso poi aspettiamo 500 millisecondi con la all delay e dopo facciamo invece il gpio pin set quindi li accendiamo quindi con ritardo mezzo secondo andremo ad accendere simultaneamente il led verde e rosso all'interno di cube mx quindi copiamo la nostra funzione toggle led proprio sotto le inclusioni iniziali e la chiamiamo nello start default task all'interno del ciclo for quindi verrà chiamata tutte le volte e andrà continuamente in esecuzione ho mandato in esecuzione il nostro codice il display ovviamente non è gestito è solo inizializzato e i led fanno toggle a frequenza di mezzo secondo bene siamo riusciti ad accendere due led sulla scheda configurata da cube mx solo che abbiamo utilizzato delle primitive hull hardware abstraction layer quindi di bassissimo livello che per due led può andare anche bene perché sono due pin alti bassi si fa bene ma per tutte le altre periferiche non possiamo lavorare così a basso livello dovremo utilizzare le funzioni bsp quelle che abbiamo visto prima negli esempi quindi adesso faremo il modo di portare le librerie bsp all'interno del nostro progetto cube mx sono pochi passi poi accenderemo nuovamente i led ma questa volta con le primitive bsp la prima operazione da fare è andare nel workspace cioè la cartella dove vengono memorizzati tutti i progetti e dal progetto bsp che è l'esempio andiamo nella cartella drivers e copiamo la cartella bsp questa cartella contiene tutti i driver della scheda discovery quindi torniamo nel nostro workspace andiamo nel progetto traccia curve che è quello fatto con il configuratore hardware andiamo nella cartella driver e li incolliamo in maniera selvaggia dentro questo bsp se andiamo a guardare ci sono i componenti tra cui anche l'lcd che è questo qua il 9341 ma la cosa più importante è che c'è la cartellina stm32 f429 discovery contenente tutti i codici sorgenti per la gestione del bsp torniamo sul cube mx il nostro progetto traccia curve all'interno della cartella driver vedete che non c'è la bsp quindi facciamo un refresh generale eccola qua il cube mx si è accorto che all'interno della cartella bsp abbiamo caricato la nuova bsp e quindi ce la fa vedere ora per poterla utilizzare dobbiamo aggiornare gli include quindi questa cartellina qua di includes contiene tutti i percorsi i path che vengono utilizzati per la ricerca del codice se vogliamo utilizzare la bsp dobbiamo fare in modo di introdurre dentro questa cartellina i nostri percorsi di ricerca per farlo andiamo nel progetto traccia curve tasto destro properties andiamo sotto c più più build e sotto settings troveremo una voce con i percorsi sotto il compilatore gcc include paths qui ci sono tutte le cartelle che compaiono di qua facciamo questo più aggiungi percorso e andiamo a selezionare nel nostro file system il nuovo percorso quindi andiamo sotto traccia curve che è il progetto drivers bsp questa è la cartellina che vogliamo includere all'interno del nostro progetto selezione cartella ok e così viene aggiunta apply and close qua nella cartellina includes adesso è presente anche la nostra bsp la si trova proprio qua vedete traccia curve drivers bsp quindi potremmo utilizzare le funzioni bsp mi ero dimenticato che deve essere copiata anche la cartella utilities da bsp infatti questa contiene i font e i log che sono comunque utilizzati sempre dalle primitive bsp quindi la copiamo all'interno di traccia curve allo stesso livello del progetto principale quindi direttamente sotto traccia curve le modifiche da apportare al file main.c sono l'inclusione delle librerie necessarie in particolare la discovery.h e la discovery underscore lcd.h dopo l'inizializzazione di tutte le periferiche che è stata fatta dal configuratore cube mx inizializziamo a mano i nostri led con questi bsp led init led 3 e led 4 poi andiamo come sempre all'interno del task principale lo start default e inseriamo il nostro toggle dei led questa volta utilizzando bsp underscore led toggle questa funzione è presente nei driver che abbiamo caricato prima facciamo un lampeggio un po' diverso quindi toggle del led 3 attendiamo un secondo toggle del led 4 attendiamo un secondo e così via mandiamo in esecuzione vedete che il led verde e rosso stanno lampeggiando quindi vuol dire che ha caricato lo stato dei led come potete vedere è aggiornato tramite le bsp quindi qua abbiamo toggle verde toggle rosso toggle verde toggle rosso così a intervallo di un secondo proseguiamo con l'integrazione del display quindi all'interno del nostro progetto del cube mx inserisco la bsp lcd init che è la primitiva che abbiamo usato prima nell'esempio del bsp facciamo anche un layer default init selezionando layer 0 e lanciamo la nostra funzione schermo quella della griglia dovrebbe andare tutto bene se non che vi faccio vedere qual è il risultato all'avvio il programma ha questa conformazione abbiamo questa riga nera e quindi il display non riesce a fare la griglia ma soprattutto i led si sono fermati quindi siamo andati in una condizione di blocco ci deve essere un conflitto hardware tra quello che viene fatto a livello di bsp e quello che viene fatto a livello di configuratore hardware se disabilito la init del configuratore hardware e lascio solo la bsp vedete che i led lampeggiano quindi il codice sta girando ma il problema sull'lcd rimane quindi questa è un qualcosa da indagare tramite gli strumenti di debug bene considerato il tempo che è passato che non è poco e la complessità degli argomenti è abbastanza avanzati cube mx schede digitali molto software io terminerei questa parte qui nel frattempo proseguo con il debug di queste funzioni in modo che così avremo una seconda parte dove l'oggetto è più integrato io vi ringrazio per aver visto il video come sempre se vi è piaciuto vi è stato utile un bel pollice in su io vi saluto ciao e alla prossima to infinity and beyond un bel pollice in su 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 un bel pollice in su